Trovo questo passaggio interessante a mio avviso e lo trovo in un saggio del barone di Montesquieu scritto nel 1735. Mi permette di fare qualche breve riflessione, credo non banale. Il pensare crea silenzio e si nutre di silenzio perché prima di tutto il pensare è un parlare a noi stessi ed è proprio questo che manca a chi parla troppo agli altri. Si corre il rischio di proporre appunto il vuoto, l'aria fritta, la banalità tante volte. Ecco perché sono necessari nella nostra vita la meditazione, l'ascolto, la lettura. Ricordo una bellissima battuta di Bernardino da Siena, dice Dio ti ha dato due orecchi e una lingua perché tu ascolti più che tu parli. Verissimo. La parola è potentissima ma è potentissima solo quando viene dal profondo e ha la capacità di mettere in moto tutte le facoltà più raffinate di una persona. Molte persone parlano con una facilità impressionante, poche persone a volte trovano qualcosa da dire. Grazie di avermi ascoltato.